Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Toukens e benvenuti in un nuovo video guida di Fortnite. In questo video andremo a vedere come portare a termine la sfida che ci chiede di visitare l'agenzia Lapidi, Lipidiche e l'Uomo di Pagna. Come sempre però, prima del video venite a lasciare un bel pollice in su, a condividerlo con i vostri amici e ad iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere le notifiche di tutti i futuri video guida. Come ultima cosa, se mi volete sostenere all'interno dello shop potete farlo inserendo il codice creatore Toukens all'interno di esso. Se andrete ad acquistare qualche skin e qualche oggetto con il mio codice mi raccomando fatemelo sapere. Per farmelo sapere vi basterà mandare un ampore all'equipo sul mio account Instagram. Io per ringraziarvi imposterò il vostro acquisto nei futuri video guida. Come detto però all'inizio del video, adesso andiamo a vedere quali sono questi tre posti. Il primo è l'Uomo di Paglia. Questo si può trovare a fattorie frenetici nella zona sul destro. Il secondo luogo invece è l'Agenzia. Questo è uno dei luoghi più frenetici della mappa e si può trovare nella zona centrale. Mentre però quando riguarda l'ultima zona che è l'Apidi di Fitiche, la possiamo trovare a nord-ovest di foresta e gli altri, ovvero dove ci sono le statue della testa di pomodoro e della daga di purpure. Come sempre amici, spero questo video vi sia stato utile. Come detto lasciate un bel pollice in su, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio